BRAVA! SEEEEEE! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! Brava Maradina! SEEEEEE! Prima partita, prima vittoria reale signori! È successo dell'incredibile! Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Forte, come potete vedere quest'oggi non siamo nel mio profilo ma c'è Elisa e siamo sul suo profilo, vedete il livello 1 non ha mai giocato neanche una partita, forse una dalla playstation che l'hai provata? Sei morta, è scesa, e sei morta? No no no, mi sono riuscita le scatole, l'hai chiuso, va bene direttamente così, mi sono auto eliminata, però siccome ragazzi nello scorso video, in uno degli scorsi video che abbiamo fatto con Elisa sul canale, se non li avete visti andatevi a vedere li trovate tutti quanti sul canale o qui sotto in descrizione se mi ricordo di metterli, avevo detto di scrivere l'hashtag falla giocare se volevate vederla in game Siete stati cattivi E l'avete scritto, quindi grazie, vi adoro, lei un po' meno perché non è buona e andiamo a giocare, ovviamente abbiamo messo no build regà perché già non è capace di giocare no build, con le build è praticamente impossibile Quindi startiamo la prima partita e ci vediamo direttamente in game E' concentrata la ragazza, molto concentrata Sa leggere le istruzioni di Fortnite Spacca, entra Ok, con il tasto destro del mouse miri, con il tasto sinistro spari, ok? Vai, ecco spazio, semplice La spara La spara E se usi lo shift Lo sai qua è lo shift, sì? Sì, esatto, corri C'è uno Menaglie, 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 menaglie Sto facessando Vieni, te sta prendendo in giro questo Te sta prendendo in giro Vieni Non ti spara Menaglie, uccidilo Uccidilo, sì La prima kill, signori Scaffa Scaffa Di qua Con shift, devi tenere proprio la shift Non lascia perdere lo spazio Premi shift, tieni proprio 1 Ok Ok Vai, 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 vai là giù Vuoi là giù Vuoi là giù Signori, una kill Ce la siamo portata a casa Picconato Ce n'è un altro là davanti, lo vedi? Però tu non c'hai armi Non mi vede Esatto, fate i cazzi tuoi Uno che uno, miralo Miralo Miralo, l'hai visto? A me che sta andando sparare Mira quello Vai vai che lo colpisci vai Piccone cambia arma cambia arma Piccone vai vai di piccone Vagli addosso Picconalo Vabbè ci può stare Perché non c'avevi neanche le armi Per potergli Vai facciamo un'altra partita Sono spaventata nella prima casa Se ti ne premuto shift corri Se ti ne premuto shift corri C'è qualcuno che ti spara dietro Hai perso l'inventario Vai 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 girati eccolo eccolo Sparagli Ah si ma prendi Non lo prendi sta dietro all'albero Vai hai finito tutte le munizioni Vai vai con la pistoletta vai Spara 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 Vai 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 che lo ammassi No Aveva poca vita Vai terza partita regà Vuoi essere un maestro duro Con lei cattivo Quello era un altro video Iniziamo Però vabbè se vuoi Possiamo farlo anche in questo Dove giocavi tu Va bene Vabbè ti devo Va bene Va bene regà Cambiano le cose in corso Va bene No non me la menta Scrivete nei commenti se secondo voi Devo comprare qualcosa Per ogni kill che fa Perfetto Vai Questa è un fucile d'assalto Per spara lontano C'è anche un minimo Deberino Avvicinato Vai apri Vai c'è un pompa qua Oddio il malanza Mette un casino Che spara Molto molto lento A te ti serve qualcosa di più spam Vai Andiamo in tagliate Buona I scudini Vai con la rodellina sui scudini Ok Usali Come se stessi a spara Senza mila Ok Solo il tasto per spara Vai un altro Ok perfetto Sei 50 Vai vai cerca qualcuno Cerca qualcuno Ti cerchi a nascondere Ma come sai Cerchi a nascondere Mi fa sta fratta fratta Vuole vincere la partita Regà Stando nascosta Tutto il tempo Sì Non ti butta Ma che sei matta Perdi vita Non ti butta 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 Vai 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 Davanti a te Stanno a sparare Quindi vai dritta per dritta là No Nel senso Dritta per dritta là Sì Ok Ma non Passando per il burrone Oddio È difficilissimo È passato Non ti butta Non ti butta Niente Cioè Questa è Non è crudo Guarda C'è una personalità No Non con il pumpato Così lontano No Cambia arma No Dai che lo ammazzi Metti quest'altra Metti quest'altra Piano Con calma Piano Vai 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 Brava Così Se t'avvicini Cambia arma Rimetti il pumpa Metti il pumpa Metti Vai 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 che te sparano Non sparare Casi l'hai qua Oh brava Attenta a quella Attenta a quella Attenta a quella Ce n'è un altro dietro Guarda Non sparare da così lontano con il pumpa Che non ci fai nulla Avvicinati Oh Vai Ancora Brava E so due Vai che te fai anche quello Laggiù No cambi arma Con la mia taglietta Sei troppo lontano Sta Vai Assalto Sta lì Vai Mira Fermati Non camminare Vai Dai E so tre Madonna Signori Vabbè Dai Potresti imparare bene Allora Adesso Gli puoi iniziare A romper il cazzo Anche con l'R Mentre ti avvicini Un pochetto Vai Miragli Vai Spara Spara Brava Brava Uno l'hai inciso Brava Vai Bravissima Pure headshot Signori 5 kill E' più forte di me Ma che è sta cosa Attenta C'è qualcuno là Spara Vai Cambia arma Leva Ok vai Spara 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 Questo lo distruggi Vai Vai Spara Ok 6 kill Signori Vai Va bene E' così Va bene E' così Vai Verso 6 Qui sta in safe E' stata buona qua Vedi che armi Ci stanno Niente che ti interessa C'è uno qui Dietro te Qui Qui sotto Mi sembra Deve vedere uno Quindi controlla Di qua Girati Guarda Ti vedi questi cerchi Indirizzati sui cerchi Ok stai nei cerchi Stanno là sotto Probabilmente lì Eh esatto Non andare lì Fermati qua Esatto Spara Vai Brava 7 kill Dai Vai vai Che questo Devo fare Vai No 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 Perché torni indietro Non lo vedi così Dove vanno No 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 Vai Eccolo qua sotto Vai Non mi era Se prima ti sparava Non sprega colpi a caso Che poi non ce la Non ce passano Vai 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 Metti il pompa Metti il pompa Vai Giappalo Vai Ancora Ancora Vai Vai Ok 8 kill Ok ricarica tutte le armi Con calma Vai Vai Ok Usa uno shieldino Siete rimasti in 4 Padà Se vinci questa partita Giuro che io ti compro Qualsiasi cosa tu vuoi nella vita Non stai in safe Perché vedi La safe sta qua giù Però occhio Siete rimasti in 2 Padà Vai Sali sul tetto Sei tu un'altra persona Padà Puoi vincere questa partita Puoi vincerla La tua prima vittoria reale Nella tua Nella tua terza partita Che provi a giocare Cioè c'è sta Fermate qua sopra Non scende dal tetto Inquadra bene intorno Guardate intorno Vedi Cerca di capire Do sta Perché probabilmente Anche lui sta nascosto Da qualche parte Ok Adesso si richiude il cerchio Tu stai fuori safe Quindi probabilmente Tra poco Te devi spostare Vai su queste E usa Con E Prendi le splash Esatto Raccoglile Buttale a terra Spara Come se spari Vicino a te Se mi hanno intercontato Vai No 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 Tieni delle splash Fermate Vai Sbrigati Vattene fuori safe Che muori Muori Corri La spada La spada La spada Ancora Vai 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 Non mori dalla safe Ok Ok Fermate Fermate Fermati Curati Subito Per terra Sotto a te Sotto a te Sotto a te Ti sta sparando quello Ti devi spostare Non capisco da dopo Da dietro Da dietro Ok Esatto Eccolo Eccolo Vai No no Non con il pompa Non con il pompa Vai con la metraglietta Con la metraglietta Buon con il pompa Che stai vicino Brava Madonna che difficoltà questa partita signori, che difficoltà questa partita signori, voglio 8 milioni di like per questa vittoria, signori è successo l'incredibile voliamo a Berlino Beppe, dai è così, ha vinto la sua prima partita con 8 kill ragazzi, 8 kill, 8 kill vabbè, no 8 kill, 8 kill finali erano 8 kill segnava, signori aveva ragione lei, erano 9 kill, però va bene, torniamo al video, io ho promesso che gli ho proprio qualsiasi cosa voleva se vinceva questa partita, quindi la raga dopo sceglierà quello che vuole e io glielo comprerò, ve lo farò vedere in un altro video Vi invito a lasciare un mi piace per questo finale e inizio, perché è un inizio epico ragazzi, perché veramente epico, lasciate tantissimi piace e commentate qui sotto, scrivete quello che vi pare, io ancora non ci riesco a credere, grandissima prima vittoria reale, grande 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 Condividete il video con chiunque, raga, e ci vediamo alla prossima, bella